Chi ha autorizzato tale modifico? Cioè è sempre in comune, è casa tua, è casa del sindaco, cioè qualsiasi modifico che vi viene qua. Perché hanno fatto queste modifiche prima? Chi li ha autorizzati? Mi risulta che ci siano diverse difformità al progetto del depuratore. Invito il sindaco e il consigliere José Saturno a verificare immediatamente. A dichiararlo, martedì mattina, nel corso del Consiglio Comunale, è stato l'esponente dell'opposizione del gruppo Viva Camerota, Orlando Laino, ex assessore lavori pubblici dell'Aggiunta Bortone Romano e artefice del Maxi Progetto per la Realizzazione del Depuratore. Laino ha dato lettura di un lungo documento in cui si chiedono chiarimenti su presunte difformità nella realizzazione degli interventi previsti da un progetto definitivo cantierabile e per questo, a dire di Laino, non modificabili senza il preventivo parere dell'ente finanziatore, ovvero l'Unione Europea. Chi ha autorizzato queste modifiche? Si legge nel documento presentato dal consigliere di minoranza. Nel mirino di Orlando Laino anche una modifica al tracciato di una strada su terreno privato che invece da progetto avrebbe dovuto attraversare il demanio pubblico e quindi senza gravio di costi parlente. Inoltre Laino ha chiesto se sia stata fatta la procedura per la destinazione ad uso pubblico di questi terreni privati. Un argomento scottante che sicuramente susciterà polemiche nei prossimi giorni. Ma le preoccupazioni di Laino sono anche altre. Si rischia un intervento della Corte dei Conti se, oltre alla difformità segnalate, manca l'atto deliberativo per la dichiarazione di pubblica utilità. Infatti, ha proseguito il consigliere di opposizione, non è sufficiente un semplice atto di assenso del privato. In conclusione si legge ancora nel documento sottoscritto da Laino che, a mio parere, si sta sottovalutando la portata delle modifiche al progetto esecutivo appaltato. Evidenzio e denuncio con forza, in cara Laino, che le modifiche di cui parliamo potrebbero compromettere il finanziamento del progetto stesso o, peggio ancora, il mancato riconoscimento delle spese sostenute per inammissibilità delle stesse con ricadute sul Comune di quanto realizzato dall'impresa. Secondo il ragionamento di Laino, non è certo che la Regione possa automaticamente accogliere le modifiche ancora di più se le stesse non sono state preliminarmente autorizzate. Laino ha annunciato che continuerà a vigilare sul proseguo dei lavori, auspicando che l'amministrazione possa correre ai ripari ed evitare un gravissimo danno per il Comune anche se allo Stato sembra difficile capire come si potrà sanare dagli interventi già avviati, ha dichiarato Laino alla nostra redazione. Sempre dal documento presentato da Laino in Consiglio si evincono altre difformità. La ditta starebbe utilizzando tubi in politiliene anziché in ghisa per la condotta di mandata. Ci sarebbero modifiche anche alla pallificata nel tetto del fiume per il sistema antifrana per il quale si starebbero utilizzando pali di dimensioni molto più piccole rispetto a quelli previsti da progetto. Un risparmio di soldi notevole, ma a vantaggio di chi? Si chiede ancora Laino. Qualche quesito però sorge spontaneo. Chi doveva controllare tutto questo? Perché non l'ha fatto? Possibile che sia avvenuto tutto questo nell'indifferenza generale? Grazie.